Fonici e senotipisti Forenzia di nuovo sciopero nazionale, nuovo sit-in dei lavoratori che operano nel settore della giustizia questa mattina dinanzi al Tribunale dell'Aquila. A ridosso della scadenza dell'appalto, tornano a protestare i lavoratori, ad oggi completamente inascoltati. Dallo scorso anno, gli impiegati nel servizio di documentazione degli atti processuali chiedono risposte su questioni irrisolte, internalizzazione, modalità di attuazione della riforma a Cartabia, minaccia della sostituzione del lavoro umano da parte di un software, percorsi di formazione svolti direttamente dal Ministero, tavolo permanente per affrontare le incertezze sul mantenimento dei livelli occupazionali e salariali. Non ci sono state proprio risposte in verità a seguito dello sciopero che abbiamo fatto il 18 gennaio e per questo abbiamo deciso di riprogrammare sciopero nazionale oggi con questo presidio regionale all'Aquila perché chiediamo al Ministro e al Ministero della Giustizia risposte immediate rispetto a un avviamento del processo di internalizzazione che abbiamo richiesto e che secondo noi è doveroso per queste lavoratrici e lavoratori che non possono continuare a lavorare in appalto all'interno di un servizio pubblico con l'incertezza ogni due anni del futuro e di quello che succederà rispetto ai loro livelli occupazionali e salariali. Quindi chiediamo chiarezza rispetto al futuro e certezza occupazionale ma soprattutto chiediamo che finalmente venga avviato questo processo di internalizzazione che permetta una volta per tutte di internalizzare questo servizio e di renderlo anche più efficiente all'interno di quelle che sono le udienze e gli atti processuali. Ecco, in tutto Abruzzo di quanti lavoratori coinvolti parliamo? In tutto Abruzzo parliamo all'incirca di 200 lavoratori, sono più di 1.500 a livello nazionale e quindi parliamo di diverse famiglie sul territorio che lavorano e lavorano con un contratto e bene specificarlo, dei servizi di pulizia che sicuramente non va a rappresentare quelle che sono le loro specificità e la loro professionalità e competenza che mettono in campo. Ricordiamo che hanno un ruolo di grande responsabilità in quanto documentano gli atti processuali e senza di loro le udienze non possono andare avanti e appunto non vengono poi verbalizzati gli atti. Quindi è un lavoro di assoluta responsabilità e competenza.